Allora, innanzitutto vi presento le persone, il procuratore della Repubblica di Catanzaro, che poi sembra la Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, potete anche applaudire se volete, se no no, ok, grazie, grazie, grazie. Giulio Francese, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Palermo, anzi no, della Sicilia, della Sicilia, e Carlo Parisi, che anche lui è meridionalissimo, arriva anche lui della Calabria come noi, ed è il vice segretario aggiunto dell'FNSI, Federazione Nazionale della Stampa. Poi abbiamo, se la regia me lo dà, così lo salutiamo subito, perché è un po' a Toronto, però c'è, lo puoi vedere anche lì nel monitor, adesso quando arriva, ed eccolo qua, il nostro amico Antonio Nicaso. Lui non ci vede, ma noi vediamo lui, e questa è la cosa importante, e lo sentiremo pure. Allora, noi abbiamo deciso di accorpare queste due sessioni, perché mille volte della mafia hanno una cosa molto in comune, e quindi facciamo una bella chiacchierata tra diritti e doveri che partono dall'informazione, che è una delle basi sulle quali Nicola Gratteri ha costruito tutto. E io, prima di passare all'articolo 21, che ovviamente è la base della nostra storia, vorrei fare il nome di una persona che proprio ieri, l'altro ieri, hanno fatto, i due genitori, mamma e papà di Francesco Rosso, hanno fatto questo sit-in davanti alla procura di Catanzaro. Perché Nicola Gratteri, tra le tante cose, i tanti pregi che ha, ha questa cosa di essere riuscito a parlare alla pancia della gente, e parla in un modo per cui noi giornalisti abbiamo bisogno di lui, non solo per quello che fa, ma anche per quello che dice. E siamo arrivati a un punto tale di ricerca di giustizia, che ci sono persone che nel momento in cui hanno bisogno di giustizia reale o ritengono di non aver avuto giustizia, in automatico chiedono a Gratteri di intervenire, che è una cosa sulla quale tu sei molto presente da sempre. Quindi vorrei che iniziassi su questa cosa, il rapporto con i giornali e il rapporto con le persone, e poi entriamo invece nel tuo lavoro. Ma intanto io sono procuratore della Repubblica a Catanzaro da tre anni, e quando sono andato a Catanzaro ho visto sostanzialmente c'era un enceforamma piatto, c'era una disorganizzazione organizzata, c'era il nulla, c'era solo confusione. E quindi ho dovuto preoccuparmi di tutto, anche spostare fisicamente la dislocazione delle persone nelle stanze, perché erano disordinate. Da questo corridoio c'era il magistrato, dal corridoio opposto c'era la sereteria di quel magistrato. E poi c'era gente che vagava per i corridoi senza sapere chi era, cosa faceva, dove andava. Quindi abbiamo cercato di mettere un po' d'ordine. E poi ho preteso che i magistrati arrivassero in un ufficio entro le 8.30. dove vengono nel mio ufficio e parliamo, gli offro il caffè e poi vanno a lavorare. Poi ho fatto un piano di rientro come si fa nelle banche. C'era un arretrato, io sono arrivato nel 2006, c'era un fascicolo del 1999 lì fermo. E con lo stesso numero di magistrati sono arrivato dal 1999 a 15 anni di arretrato, siamo arrivati a 4 anni di arretrato, con lo stesso numero di magistrati. Quando abbiamo mandato questi numeri al ministero ci hanno chiamato e dicevo guardate che avete sbagliato a darci le statistiche perché non è possibile che... Guardi i numeri sono veri. Perché ho fatto un piano di rientro, li ho fatti lavorare anche sabato e domenica. Quindi con lo stesso numero di magistrati abbiamo battuto l'arretrato. Poi ho incominciato, andavo a Roma anche a spese mie a farla a questo. Andavo dal ministro degli interi, al ministro di giustizia, al comandante generale del carabiniero, al comandante generale di finanza e al comandante capo della polizia a proporre un progetto, un'idea, un sogno. Pensate che a Catanzaro gli ultimi 10 ingradatori sceglievano di andare o a Catanzaro, all'Occhio o a Gela. Adesso a Catanzaro su 360 uditori giudiziari, oggi si chiamano a Mott, l'ultimo ingradatorio che è arrivato a Catanzaro era l'86 e viene da Milano perché viene a fare palestra a Catanzaro per imparare a fare il pubblico ministero. Ma non bastava questo. Il giorno in cui io mi sono insediato a Catanzaro, avevo di fronte, c'era il vescovo, c'erano le eccellenze parlamentari, ho detto io ma che faccio, adesso mi devo mettere a salutare tutti, uno per uno, a ringraziare. Ho detto sai che faccio, lancio una bomba sul tavolo, vediamo che succede, lancio una bomba a mano. Cosa era successo? Attorno al palazzo di giustizia noi paghiamo 1.700.000 euro l'anno di fitto di tutti i palazzi che sono attorno. Ho detto ma perché queste cose? E a 50 metri dal palazzo di giustizia c'era un ospedale militare che era un bellissimo convento del 400 chiuso da 10 anni, dove c'era qualcuno che voleva fare una speculazione di inizio e fare un bell'albergo, altri volevano fare la solita centro congressi, pensate che a Canzaro c'erano 4 cinema chiusi e 2 teatri chiusi, però bisognava fare un altro centro congressi. Ho detto sentite che ne pensate se facciamo la procura a Canzaro lì? Ma c'è qualcuno di voi che mi pare che non vuole, qualcuno di voi vuole fare un albergo, è vero? O c'è il magistrato di giustizia che dice che bisogna fare un centro congressi, ma perché non facciamo la procura? Fatemi vedere chi è questo magistrato che non vuole? Allora silenzio i tombi, qualcuno metteva la testa nella gabbia toracica, qualcuno faceva finta che guardava il telefonino, tutti abbassavano la testa. Il giorno dopo ci siamo riuniti attorno a un tavolo e tutti hanno firmato, dicono ma io ero d'accordo, firma. Abbiamo firmato, sono andato di corsa a Roma, vado al ministro dei lavori pubblici, gli dico abbiamo questa idea, questo progetto, c'è la finanza se servono 10 milioni di euro, lui il ministro mi dice noi non siamo riusciti a fare nulla per la Calabria, ma se c'è lei sicuramente si farà questa cosa, chiamato il direttore generale, trova 10 milioni di euro perché dobbiamo fare quest'opera. Vado al ministro della giustizia, ministro c'è questa cosa, va bene? Sì sì sì, appoggiavo. Oggi mentre noi stiamo parlando ci sono gli operai che stanno lavorando, i lavori stanno andando avanti. Allora, però per fare queste cose bisogna rischiare, metterci la faccia, sporcarsi le mani, impegnarsi, perché noi siamo tutti molto bravi a fare i predicatori, i conferenzieri, ma poi guardiamo sempre gli altri, che fanno gli altri. Ovviamente la qualità degli investigatori, ovviamente io mi sono fatto aumentare la pianta organica di 7 pubblici misteri e 12 giudici, perché io vado sempre, ogni volta che vado a Roma, faccio un interrogatorio, una riunione di DNA, vado sempre alla questua. Andare a chiedere per l'ufficio, andare a chiedere per la collettività, non bisogna vergognarsi, l'importante è non chiedere per se stessi. Tu puoi scrivere tre lettere al giorno ai ministeri, nessuno ti ascolta, devi andare lì, spieghi un progetto, se sei credibile, le cose te li danno. E io ho tutto quello che ho chiesto, perché sentivo qualcuno giustamente che diceva non facciamo i piagnoni noi del sud, non facciamo i pegnoni. Non dobbiamo fare i pegnoni, noi abbiamo le intelligenze e le capacità per poter cambiare il futuro, cambiare il sud. Quando qualcuno mi dice ma i calabresi sono omertosi, i calabresi non parlano, non è vero. I calabresi non sanno con chi parlare, non sono omertosi, perché i calabresi sono stati usati, usati, sono stati usati e quindi è ovvio che sono diffidenti, sono anche paranoici i calabresi, perché sono stati sempre usati. Ma ora gli stiamo dando una grande opportunità e la prova è che io ogni settimana, sapete cosa faccio? Faccio ricevimento. Ci sono mediamente 250-300 persone che vogliono parlare con me e si mettono in lista d'attesa e io dalle 1 e mezza alle 2 di poveriggio fino alle 9 e 10 di sera, ogni persona ha 10 minuti di tempo per raccontarmi il suo problema e il suo dramma e ci sono oggi commercianti usurati e storti imprenditori che denunciano dranghetisti, non c'è più la lettera non è, ma gente che viene a denunciare perché crede, perché siamo credibili, perché ha dimostrato concretamente essere credibili. È ovvio, chi mangia fa molliche, ci mancherebbe altro, non siamo perfetti, sicuramente io ho fatto tanti errori, ma nel momento in cui noi stiamo costruendo e la gente incomincia a credere, avere fiducia in un progetto e di un'idea e io grazie a Dio ho il 95% della stampa vicino a me, il 95% e anche più di giornalisti vicino a me, che credono in questo progetto e in questa idea e mi sostengono e mi aiutano perché è molto importante l'informazione corretta, ma ho anche certamente dei giornalisti o due o tre giornali che scientificamente sono portavoce di altri centri di potere, che non sono sicuramente quello della trasparenza o dell'informazione, che scrivono cose false, ma io ho un record, non ho mai denunciato nessuno, ma soprattutto perché mi dispiace, dico poveretto, così va a scrivere queste cose, immagina come è ridotto, come è combinato eccetera, cioè non avere la degnità di poter esprimere una sua idea. E allora c'è la fila, c'è la fila di persone che vengono a denunciarci. Io vi racconto e poi concludo, un solo episodio, da me vengono gente importante, viene anche molti colletti bianchi, molti medici, professionisti, quadri della pubblica amministrazione che sono vessati, che non hanno gratificazione, che sono messe da parte perché oggi, perché ora è cambiato il governo, perché voi sapete che in Calabria una volta vince il centrosinistro, una volta il centrosinistro, ma vince sempre il 70%, chiunque vince, chissà perché. E allora dico, però una volta sola è venuta, cioè la cosa che più mi ha colpito, una vecchietta, è venuta una donnina così, piccolina, vestita di nero, una vedova, con una figlia a fianco e questa donna tremante piangeva perché parlava col procuratore perché il maresciallo del suo paese non l'aveva ricevuta e il procuratore l'aveva ricevuta. Io a quella vecchietta non ho dato dieci minuti, ho dato tutto il tempo che le serviva di parlare, perché c'era il mafiosetto del paese che gli rubava le mucche, le capre, le pecore, era di un paesino del Monte Poro, in provincia di Vibbo. Allora questa vecchietta ha denunciato, io l'ho chiamato il colonnello di Carabinieri, l'ho fatta parlare col colonnello, non col maresciallo di Carabinieri questa volta, non col capitano, col colonnello doveva parlare. Il colonnello l'ascolta, in tre mesi riusciamo ad arrestare questo mafioso. Questa donnina è tornata, intanto aveva dieci anni in meno, intanto camminava più dritto e poi sorrideva. Voi capite che cosa è importante per me? Questa donna vivrà altri dieci, quindici anni, io ho risolto il dramma di questa donna che per i prossimi dieci, quindici anni vivrà in modo sereno. Allora noi siamo credibili se diamo queste risposte, se abbiamo queste idee, io posso fare l'indagine, posso sequestrare 2000 kg di cocaina al porto di Gioiettauro proveniente dalla Colombia? Posso arrestare 50 mafiosi? E allora? Sì, è una cosa importante, va bene. Ma è importante risolvere il dramma, cioè noi dobbiamo interessarci di tutto, anche dei cosiddetti reati bagatellari. Se io oggi risolvo il problema di un cancello abusivo e due vicini che litigano, se io non intervengo su quel cancello abusivo, l'anno prossimo ci sarà un omicidio per quel cancello. Allora ecco perché noi dobbiamo creare un sistema che dia risposte a tutti e io cerco di dare la stessa importanza, tutta l'importanza, anche alla procura ordinaria. Per me è fondamentale, se funziona la procura ordinaria funziona la DDA. Quando qualche, sapete questi professoroni, questi esperti antimafia, questi che sanno tutto, no? I teorici dell'antimafia, riconoscete sicuramente, li avete ascoltati, quando vengono a darci delle ricette come si combatte la mafia, non esiste una ricette per combattere la mafia, esiste la creazione di un sistema efficiente della procedura per abbattere i tempi, i costi e il potere di screzzatura dell'uomo, quindi l'abuso, perché se tu non risolvi, non stappi il lavandino otturato, che è tutto ciò che arriva al tribunale, se tu non risolvi il problema dei reati ordinari, non puoi poi celebrare i processi di DDA. È al contrario la visione, perché noi si tende sempre alla spettacolizzazione, l'indagine importante, abbiamo arrestato a questa, abbiamo... E qual è il problema? Io devo preoccuparmi del grado di vivibilità della gente e la sicurezza della gente la misuro dando risposte nel quotidiano, perché se io oggi risolvo una truffa online, domani la stessa persona viene e mi denuncia un usuraio, un estortore. Giulio, parlando di diritti e di doveri, ovviamente arriva immediatamente a palla il nostro mestiere. Nicola Grattiero è una persona che lo sfrutta anche il nostro mestiere, perché appunto riesce a parlare alla pancia, riesce a convincerci, riesce anche a farci credere che il nostro sia un buon lavoro. Però molto spesso questo confine tra diritto all'informazione e dovere di informare si scontra con ciò che lui combatte e che tutti tentiamo di combattere. Tu hai delle cicatrici importanti, da 79, ma non sono solo tue, sono nostre, perché le tue cicatrici e le cicatrici di ciascuno, dei caduti, delle vittime innocenti, dei giornalisti e non solo dei giornalisti che sono stati uccisi perché cercavano, dalle mafie ovviamente, perché cercavano di dire la verità, sono vittime di ciascuno di noi. Ed è una cosa che non riusciamo ancora fino in fondo a comprendere, è una battaglia che non riusciamo a portare avanti fino in fondo. Dov'è che si è fermato il motore? Dov'è che abbiamo sbagliato per cui ancora non si capisce quanto è difficile per chiunque cerchi di lottare avere davvero dalla propria parte tutta la popolazione Un discorso complesso, difficile. Sì, questa terra, detto bene, ha pagato un prezzo altissimo al tentativo di fare un'informazione corretta, seria, otto giornalisti uccisi proprio per aver fatto bene il proprio lavoro. per aver infranto quella che è la principale legge della mafia, la legge del silenzio. Giornalisti disarmati, l'unica arma a loro disposizione era la parola e l'hanno utilizzata bene. Però è anche vero, bisogna dirlo, che questa terra è un po' strana perché si celebrano i morti e poi si dimenticano al giro di niente. E questi giornalisti per lungo tempo sono stati giornalisti senza giustizia, senza giustizia e poi dimenticati. Per cui si è dovuto fare un intervento importante per cercare di dire chi erano questi giornalisti, per sottolineare l'impegno, l'impegno serio che li ha portati alla morte, giornalisti innamorati di questo mestiere fino all'ultimo, giornalisti che sapevano di rischiare, giornalisti che hanno detto cose importanti in tempi non sospetti, giornalisti che sono morti però perché erano soli alla fine. raccontiamo chi sono un po', raccontiamo le cose importanti che hanno detto, raccontiamo le tante cose scritte da Pippo Fava, il suo concetto etico del giornalismo che è come dire una sorta di comandamento per i bravi giornalisti che seguono questa professione con grandissima passione e con grandi rischi. Ricordiamo i suoi articoli sui cavalieri dell'Apocalisse di Catania. Ricordiamo Mario Francese, mio padre, che in tempi non sospetti parlava dei corlionesi che per tanti erano qua degli scassapagliari praticamente, centozza di campagna e mio padre invece parlava di una nuova strategia dalla mafia, ricuciva tutti quei delitti che avvenivano intorno alla diga Garcia, parlando di una nuova strategia della mafia, una mafia sanguinaria che in quel momento praticamente stava facendo le grandi manovre di quello, ha fatto vedere in piccolo quello che avrebbe fatto poi vedere più in grande successivamente partendo all'attacco di Palermo, partendo appunto con l'omicidio di mio padre che inaugura questa lunga stagione di sangue della mafia. Dopo di lui, ricordiamoci, è stato ucciso il consigliere Michele Reina, il consigliere dell'ADC, il segretario provinciale dell'ADC, poi Boris Giuliano, il capo della Mobile, poi il giudice Terranova e a seguire per Santi Mattarella e poi tanti, ancora un crescendo impressionante. Ricordiamo Peppini Impastato, le cose importanti che ha detto, il modo in cui le ha detto, riuscire a dire che cos'era la mafia e a sbeffeggiare anche la mafia. Tano Seduto, parlava appunto di Tano Badalamenti, quello che era stato il capo della cupola di Cosa Nostra. Pensate un po' all'effetto di queste cose che venivano dette in un periodo in cui la mafia aveva una grande forza e praticamente queste cose erano dette in work in progress. Mio padre raccontava i corleonesi mentre i corleonesi agivano e si preparavano a dare la scalata e glielo hanno fatta pagare. Tutto questo, poi questi morti, Peppini Impastato si è tentato di depistaggio, di farlo passare per un tentativo fallito. Mio padre che è stato fatto passare a lungo per visionario, uno che raccontava una storia che non esisteva, quella dei corleonesi, perché la mafia vera era considerata quella aristocratica, padermitana. Poi abbiamo visto che aveva ragione, è arrivato Buscetta, ci ha raccontato chi c'era dietro quella catena di sangue, che ormai i corleonesi erano padroni della mafia, i corleonesi guidati da Totò Rina e Bernardo Provenzano, che proprio erano quei nomi che a partita dal 1975 mio padre facevano, così come quelli appunto di De Luca Bagarella. Per esempio, l'omicidio del colonnello russo, è questa una svolta importante per la politica di espansione dei corleonesi. A un certo punto le inchieste di mio padre portano la procura a tensionare questa vicenda russo e puntare i fari praticamente sui corleonesi. A quel punto spuntano dei pastorelli, dei pastorelli così dal niente, che si autoaccusano di questo omicidio. Ovviamente i veri autori del delitto erano ben altri, c'era Luca Bagarella. Come vedete, un altro tentativo di depistaggio. E viene scritto dal giornale di mio padre che si trattava di un chiaro tentativo di depistaggio. Per arrivare a questa verità ci sono voluti però 18 anni. Per 18 anni ci sono stati gli innocenti in carcere. Sono otto giornalisti uccisi. Per fortuna negli anni si è cercato di recuperare la memoria, di raccontare le cose che hanno fatto. Oggi possiamo dire chiaramente che per i giornalisti siciliani questi otto giornalisti rappresentano un simbolo, un esempio da seguire. E per molti lo sono anche oggi. Anche se questo significa varcare una soglia di rischio. Perché fare i giornalisti in Sicilia, ma ormai in tutta Italia, perché la mafia è dappertutto ormai. Abbiamo visto che in Emilia Romagna c'è un collega bravissimo, Giovanni Tizian, che vive sotto scorta da anni. Di rabbate a Roma, così la collega Angeli a Roma, vivono anche sotto scorta, hanno raccontato prima di tutti in tempi non sospetti la presenza di una mafia attiva e pericolosa in territori in cui non si escludeva addirittura la presenza della mafia. Quindi ci sono colleghi che varcano questa soglia di rischio e rischiano moltissimo perché sono minacciati, subiscono attentati, ricevono insulti, vengono isolati e per lo più parliamo di colleghi collaboratori pagati pochi euro a pezzo. Gente che va nonostante tutto avanti animata da una grande passione, una grande voglia di fare. perché ci vuole passione per fare questo mestiere, ci vuole passione per questa professione e ci vuole anche una grande passione civile perché il giornalismo può cambiare le cose, può incidere sulla realtà. Ci vuole però grande passione, ho detto, e in Sicilia devo dire ci vuole anche, purtroppo, grande coraggio. Io ora andrei dall'altra parte dell'oceano, quindi chiederei anche alla regia di poter vedere in faccia il nostro Antonio perché quando si parla di passione, quando si parla di amore, ma soprattutto quando si parla di legge del silenzio arriva immediatamente tutto ciò che voi state facendo. Tu lo hai fatto da giornalista, lo hai fatto da docente universitario, lo hai fatto, continui a farlo da saggista, da scrittore, da tutto. È un impegno costante H24 360 gradi con cui porti avanti l'unica arma che ciascuno di noi ha, combattere la legge del silenzio. In questo senso tu hai creato questa coppia con il nostro Nicola, per cui ormai siete a 15, 16, ho perso il conto, non so quanti libri sono e mi ha anticipato anche Nicola che ne sta uscendo un altro. Sono sempre successi infiniti, vendete sempre un sacco di coppie, il che significa che comunque raccontare è importante perché c'è gente che le vuole leggere queste storie. Riprendendo da quello che ha detto Nicola prima e che è appena finito di dire in modo anche molto emozionante Giulio, passo successivo, legge del silenzio ad abbattere come e soprattutto ci racconti un po' quello che state facendo tu Nicola dal punto di vista della divulgazione del pensiero, della lotta al silenzio. Allora, io l'ho ascoltato con grande attenzione sia all'intervento di Nicola sia all'intervento di Giulio Francese. Se gli indranghetisti, se i mafiosi fossero soltanto gangster, oggi non staremmo a parlarne. Il punto è che sono ben altro e quel ben altro a molti fa comodo non vederlo, come accadeva per esempio nell'Ottocento quando i mafiosi erano considerati come espressione, fenomeno delle cosiddette classi pericolose, quindi estranei al contesto sociale. In America per esempio si è coniato il concetto di alien conspiracy, in cui alien sta per non cittadino e quindi immigrato e conspiracy per congiura, quella dei diversi che agli occhi del mainstream non erano assimilabili. Ecco, in Italia purtroppo per tanto tempo è entrato nell'immaginario collettivo lo spirito della mafia, di questa organizzazione criminale, quasi sganciata dal contesto sociale. Non abbiamo invece mai voluto cogliere l'aspetto legato alle relazioni, alla cosiddetta zona grigia, anche se a me non piace definirla tale, ma la cosiddetta zona grigia è come l'aria e l'acqua per i mafiosi, è indispensabile alla vita e spesso noi andiamo a cercare una mafia che nell'immaginario collettivo è quella della violenza, è quella del controllo ferreo del territorio ed invece sottovalutiamo un altro aspetto importante che è appunto quello della facilità con cui i soldi delle mafie entrano nell'economia pulita, perché ci sono tanti professionisti, tanti politici, tanti uomini delle istituzioni, tanti fedeli, infedeli, anzi servitori dello Stato che sono funzionali a logiche mafiose. Ecco perché chi riesce a vedere oltre, come Mario Francese, che in un momento in cui si pensava che la mafia fosse soltanto quella di bontà, quella palermitana, aveva invece capito per primo l'importanza della commissione, chiamandola per nome, l'importanza appunto dei corleonesi che stavano stringendo rapporti con il potere, stavano facendo sistema perché questo significa essere mafie, è stato ammazzato perché è riuscito a vedere quello che tanti non avevano nessuna intenzione di vedere, perché faceva comodo pensare alla mafia come qualcosa di estraneo al contesto sociale. Ecco, quello che noi stiamo cercando di far capire alla gente attraverso i nostri libri è che anche l'andrangheta è un fenomeno di classi dirigenti e quindi spaziamo, cerchiamo di spazzare via tutte quelle interpretazioni culturaliste, l'idea dell'onorata società, l'idea di una mafia che un tempo era dalla parte dei deboli contro i forti e dei poveri contro i ricchi e lo facciamo attraverso una documentazione seria, quella appunto della ricerca d'archivio, quella che ci fa e ci ha fatto scrivere, per esempio in questo libro, Storia segreta dell'andrangheta, che già nel 1860 un andranghetista era stato nominato a capo della guardia cittadina in vista dell'arrivo di Garibaldi e quindi massima espressione delle forze dell'ordine a Reggio Calabria per gestire l'ordine pubblico. Oppure quello che succede nel 1869 quando la setta degli accoltellatori guidata da Francesco De Stefano, avo degli attuali De Stefano, viene arruolata dalla destra cavuliana e massonica per sconfiggere il movimento borbonico e clericale nell'elezione del 1869, che hanno portato al primo scioglimento di un consiglio comunale in Italia. Ecco, questa è l'andrangheta e noi questo cerchiamo in qualche modo di far conoscere alla gente, spazzando via tutto quello che è la mitologia che gli andranghetisti hanno voluto creare, in un certo senso per crearsi questa aureola di uomini d'ordine o di gente capace di garantire una giustizia alternativa. Ecco, è un lavoro importante secondo me, perché è qualcosa che bisogna sapere, bisogna conoscere. La conoscenza è un'arma efficace nella lotta contro le mafie. Bisognerebbe fare tanto, di più, soprattutto sul piano normativo, però vedete questo è un aspetto inquietante ed è appunto l'aspetto della volontà politica. La lotta alle mafie è stata sempre fatta a fisarmonica, si è reagito quando c'è stato qualcosa di eclatante, ma non c'è stata mai la volontà politica di combattere alle mafie, ma non quella degli stracci, ma le mafie vere, quelle che entrano nei salotti e che stringono rapporti con i centri di potere. Antonio, sei come al solito preciso e perfetto e mi consenti anche di andare oltre, cioè la volontà politica, Carlo. Tu conosci molto bene sia Antonio Nicaso che Nicola Gratteri, perché mi ci metto anch'io come calabrese, siamo calabresi, quindi devi parlare qua, qua sopra, ci siamo riuniti tutti insieme, però c'è neanche un pezzo Toronto, il pezzo più grosso sta Toronto, il pezzo più grosso di Ndrangheta sta là. La volontà politica è esattamente il tema che molto spesso l'invitato di Pietro, il convitato di Pietro non se ne può mai parlare, perché della volontà politica cerchiamo di non parlarne. Abbiamo paura, ti parlo del giornalista, non si sa fino a che punto, perché altrimenti succede quello che ci siamo appena purtroppo sentiti raccontare da Giulio prima e da Antonio dopo. La federazione della stampa che tu rappresenti, la federazione nazionale della stampa, sta cercando di fare moltissimo e tanto ha fatto. Ci vuoi raccontare cosa ha fatto e cosa vorrebbe continuare a fare e dove potrebbe aver bisogno di aiuto per continuare a farlo? Sì, ma intanto sulla volontà politica di non fare determinate cose mi torna in mente un episodio da quando giovane cronista al Reggio Calabria durante la guerra di mafia, mille morti ammazzati in cinque anni. Un giorno mi chiamò l'allora comandante provinciale dei Carabinieri, Gennaro Niglio, e mi disse, guarda, noi non abbiamo bisogno, poi era scattata la cosiddetta operazione Aspromonte, non abbiamo bisogno di 8.000 militari dislocati in Aspromonte, ma abbiamo bisogno di due investigatori in più, perché il problema non è far vedere che lo Stato è presente, l'importante è andare a scovare dove sono i criminali, ma soprattutto i mandanti dei criminali e assicurarli alla giustizia. E quindi questa volontà politica che è sempre mancata nelle regioni meridionali, in Sicilia, in Calabria, dove si è sempre pensato di fare più immagine, siamo nella terra, voglio dire, di Sciascia, prima il procuratore Gratteri ci ricordava questa esigenza in Calabria di parlare, perché la gente ha bisogno di parlare, ma questo lo dicevo 80 anni fa con Radalvaro, il calabrese va parlato. Io sono orgoglioso di essere calabrese, di essere corregionale e conterraneo di Nicola Gratteri, che per noi è più che un simbolo. Nicola Gratteri è un padre, un fratello, una speranza e la speranza è soprattutto l'aver ritrovato un motivo per continuare a rimanere nelle terre del sud, per credere che ancora la speranza sia possibile. Se noi consideriamo che Nicola Gratteri vive sotto scorta da 30 anni, perché ad aprile di quest'anno sono 30 anni che vive sotto scorta. E quello che diceva 30 anni fa Nicola Gratteri, nel corso di questi anni, ha dimostrato l'evoluzione, quella visione che Gratteri aveva 30 anni fa dell'evoluzione delle mafie, dell'evoluzione dell'andrangheta, che sin da allora veniva identificata come l'organizzazione criminale più potente del pianeta. Alla fine sono delle cose che noi sapevamo, ma qualcuno non voleva capire, non voleva sentire quello che il procuratore andava dicendo. Ecco, questa crisi d'identità, all'inizio dell'intervento di Gratteri, quando raccontava della crisi d'identità che ha trovato all'interno della procura di Catanzaro, cioè di chi quasi non sapeva, quasi si era rassegnato a non sapere o, voglio dire, non essere indirizzato a fare qualcosa, è la rappresentazione plastica un po' della società meridionale, una società che soffre naturalmente di tanti luoghi comuni, come quello dell'aspettare l'assistenzialismo, ma dall'altro lato questo assistenzialismo ha favorito la situazione, il grande dramma del meridione. Perché quei fiumi di denaro che sono stati canalizzati verso le regioni meridionali e alla fine sono serviti anche addirittura ad andare ad alimentare le organizzazioni mafiose proprio nel nome dell'antimafia, perché purtroppo il procuratore Gratteri ci insegna che addirittura tanti finanziamenti arrivati proprio per sostenere l'antimafia sono serviti ad alimentare la mafia. E allora quanto di quei fiumi di denaro avrebbero potuto contribuire invece alla creazione dei posti di lavoro? Perché va da sé che in situazioni disperate, in situazioni drammatiche, la debolezza di chi è deputato a cambiare, a credere in un cambiamento, a lavorare per la regione diventa difficile. La Federazione Nazionale della Stampa. Noi in Italia attualmente abbiamo 19 giornalisti sotto scorta. Non voglio fare un discorso di casta perché io non sono tra quelli che danno molta visibilità agli episodi che colpiscono solo i giornalisti. Perché è molto facile, voglio dire, certe volte io rifiuto e spesso contesto anche i colleghi che al ricevimento di una lettera anonima vanno sui giornali, vanno in prima pagina, 10 pagine sull'argomento, eccetera, eccetera. Quando invece noi abbiamo insegnanti di scuole... Posso interromperti un attimo? Non pensi che si esagere con le scorte in Italia, sia per i magistrati che per i giornalisti? Perché rischiamo di non essere credibili se esageriamo. Perché sai che ci sono delle persone che si fanno accompagnare a casa con la scorta e poi escono da soli. Ma stavo dicendo... Ma stavo appunto dicendo questo. Ma adesso lui 30 anni li ha fatti ad aprile, eh? Ma stavo... No, io ci tengo molto a questo perché è una questione di serietà. Cioè non solo non possiamo essere onesti ma dobbiamo anche apparire. Siccome la scorta è una cosa seria, perché ogni mattina, mi ha detto il capo della polizia, 2.500 uomini escono la mattina per andare a fare scorte o tutele. Tra apparenzi certe volte servizio taxi. E allora vogliamo essere seri e feroci con noi stessi e non appoggiare, non alimentare certi bleffi mediatici? Assolutamente. Infatti il discorso era proprio questo. Cioè non è giusto andare a rendere visibili in maniera sovraesposta dei fenomeni che poi tra l'altro sono dei fenomeni che avvengono quotidianamente nella società. Perché io ritengo che sia molto più drammatico un negozio bruciato, un'attività andata in fumo, l'autovettura incendiata all'insegnante anziché la lettera arrivata magari a un giornalista, perché purtroppo anche questo capita, che non ha mai scritto, non ha mai denunciato fenomeni mafiosi. Allora su questo argomento proprio ormai da 3-4 anni al Viminale è stato istituito un osservatorio congiunto che coinvolge la Federazione Nazionale della Stampa all'Ordine dei Giornalisti e il Ministero degli Interni proprio per andare a monitorare tutti i casi che vengono denunciati. Perché noi non siamo assolutamente d'accordo su alcune cifre che appunto, come diceva il procuratore Gratteri, rischiano di innescare il fenomeno tutto è mafia, niente mafia. Perché poi il rischio è proprio questo, al lupo al lupo e quindi alla fine poi si rischia di non andare a proteggere, a vigilare coloro i quali invece hanno effettivamente bisogno di una protezione e su questo assolutamente è un'attività che va fatta. Ma mafia non è solo per quanto riguarda i giornalisti l'intimidazione che arriva dalla criminalità. Lo ha detto, lo ha accennato il procuratore. Gratteri esistono dei centri di potere che veicolano l'informazione. Noi non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale. La mafia nel corso dell'evoluzione, ce l'hanno raccontato, ce l'ho raccontato da tanti anni, Gratteri e Nicaso, nei loro libri, ha sempre avuto come dire una marcia in più nell'evoluzione e quindi ha lo stesso praticamente, ha la stessa tecnica della Chiesa, cioè praticamente nei secoli riesce sempre praticamente a rimanere in piedi ad evolversi perché va più avanti delle tecnologie. Oggi noi viviamo in una società informatica che noi sappiamo benissimo l'andrangheta non è più l'andrangheta, è passata dalla fase dei sequestri di persona ai traffici di droga e oggi fa i conti con le criptovalute. Noi parliamo di un rischio che tra l'altro non è regolamentato perché purtroppo quando noi parliamo di rete sappiamo che non basta la volontà nazionale ma è necessaria la volontà sovranazionale. Noi stiamo assistendo per esempio alla grande difficoltà di applicare in Italia la direttiva del Parlamento europeo sul copyright, quindi sulla difesa del lavoro degli autori, dei giornalisti ma anche degli artisti. Quindi è già difficile applicarla perché poi noi andiamo a scoprire che i server sono praticamente installati in stati non raggiungibili e quindi anche se il procuratore ci insegna ci sono tutti gli strumenti per andare a oscurare perché se è vero che in Cina si riesce a oscurare Facebook significa che ci sono gli strumenti se si vuole andare a chiudere un sito per farlo. Perché una cosa deve essere chiara, io lo dico da giornalista e non mi stanco di ripeterlo, libertà di stampa non è licenza di diffamare, cioè non significa che un giornalista è autorizzato a diffamare chiunque. Ci hanno messo un attimo a farlo partire l'applauso perché è talmente forte. Questo deve essere il primo punto. Giulio Francese che su questo è molto serio e rigoroso si sforza continuamente a collaborare con tutti gli istituti di categoria per creare quella mentalità soprattutto nelle giovani leve di giornalisti che deve fare quel salto di qualità che nella società ci trova perfettamente allineati con il procuratore. Una cosa importante che noi abbiamo fatto nei mesi scorsi è stata quella di incontrare i due procuratori antimafia della Calabria che sono Nicola Gratteri e Giovanni Bombardieri. Perché? Perché in una terra nella quale le divise sono state sempre vissute come il nemico perché purtroppo anche su questo c'è stata una errata strategia delle forze dell'ordine perché il procuratore Gratteri ci insegna che se bisogna andare a fare un'arretata a Platì o a San Luca non c'è bisogno di fare l'irruzione alle tre di notte e terrorizzando magari i bambini di due o tre anni che poi cresceranno sempre all'interno di quelle famiglie con la visione di quella divisa che rappresenta il nemico, che non rappresenta lo Stato. E quindi sarebbe stato tra l'altro molto facile invece andare, non sarebbe cambiato nulla farlo in altri orari. Però spesso c'è stato questo errore anche amplificato dai giornalisti perché purtroppo noi abbiamo assistito per tanto tempo a delle conferenze stampa in pompa magna per l'arresto di un extra comunitario che vendeva accendini contraffatti. Allora questo è l'errore, cioè l'aspettacolarizzazione di determinate azioni spesso sposta l'attenzione sui problemi veri mentre è necessario fare fronte comune con la magistratura, con le forze di polizia soprattutto con la polizia e i carabinieri in un cambiamento che deve dare assolutamente fiducia e speranza. Per quanto riguarda i giornalisti un altro grosso problema è quello che purtroppo i giornalisti io dicevo prima in Italia noi abbiamo 19 giornalisti sotto scorta 11 nel Lazio, 6 in Campania, 1 in Lombardia, 1 in Calabria. La maggior parte di questi giornalisti non ha un posto di lavoro sicuro e questo tra l'altro è un altro dramma perché poi bisogna anche tenere presente e avere grande rispetto per quei giornalisti che pagano pesantemente la loro condizione e continuano a fare giornalisti in quelle terre dove è difficile scrivere e soprattutto è difficile anche vivere perché spesso ci si trova a vivere sotto scorta non avere uno stipendio adeguato a dover fare i salti mortali per mettere assieme il pranzo e la cena. L'importante è la presenza dello Stato e allora lo Stato è su questo proprio nei giorni scorsi noi abbiamo registrato un cambio di passo nell'interlocuzione con il sottosegretario all'editoria io l'ho incontrato la settimana scorsa abbiamo partecipato ad un convegno al Senato della Repubblica e lui stesso ha detto beh io mi impegno assolutamente a garantire, a battermi a cercare di inserire nella prossima finanziaria dei seri provvedimenti per sostenere il pluralismo e l'informazione perché noi se non rimane solo un concetto enunciato dalla Costituzione perché libertà di stampa, pluralismo e l'informazione non significa certamente solo pensare al posto di lavoro che si crea nei giornalisti ma significa dare ai cittadini il diritto di essere informati perché noi abbiamo l'obbligo di informare il diritto di informare i cittadini hanno assolutamente il diritto di essere informati direttamente e un giornalista, un cittadino può essere informato direttamente soltanto da un giornalista che non vive sotto il ricatto da un giornalista che deve essere pagato mi manda perché il presidente Foti è perennemente sulla notizia allora mi manda questa notizia sparatori a Trieste, sono appena morti i due agenti ci siamo esattamente sulla notizia dove? allora aspetta che mentre lo leggeva allora sparatori a Trieste e due poliziotti uccisi davanti alla questura due poliziotti sono stati uccisi sono Pierluigi Rotta, agente scelto Mattea De Menego, agente secondo una prima ricostruzione della vicenda il presunto autore di una rapina sarebbe andato in questura accompagnato dal fratello li avrebbe aperto il fuoco i due fratelli sono stati fermati oggi queste notizie si mescolano Nicola si mescolano in un modo tale che per il cittadino e scusami se ti ho interrotto ma mi ha scioccato proprio la cosa e così ritorniamo e poi rifacciamo il giro si mescolano in tal modo le notizie si mescolano anche con l'odio che è sui social con questo bisogno ad urlare a tutti i costi che diventa sempre più difficile capire dov'è il confine tra la realtà e la fiction ed è una delle ragioni per le quali poi lo chiederemo anche ad Antonio come mai bisogna arrivare anche alla pancia dei ragazzi con la fiction come si fa a rimettere a posto le pedine a riuscire a dare il peso reale alle cose che succedono a togliere come diceva Carlo il arrestato l'ultimo degli ultimi che diventa il più grande dei latitanti se serve come si fa a ridare un senso alle cose ma intanto i giornalisti dovrebbero cercare di non essere amici dei magistrati dovrebbero cercare di raccontare la verità ed evitare di fare i piaccioni ai procuratori della repubblica dovrebbero cercare anzi di essere certe volte feroci perché noi in Italia l'Italia è piena di bleffi mediatici in tutti i settori ci sono delle invenzioni gente completamente inventata che viene rappresentata alla Massaia di Voghera come un eroe come un palladino dell'antimafia come un grande pensatore è uno che si strappa le veste o che si strappa i capelli che non ha perché soffre soffre per la nazione e poi non è vero perché quello pensa solo a guadagnare e allora dovremmo cercare tutti di essere più seri di essere più coerenti con quello che è la nostra funzione certo questi episodi possono capitare non sappiamo qual è il motivo sicuramente non era giusto non stava bene con la testa uno che ammazza così a freddo due poliziotti nemmeno in un conflitto a fuoco poi vediamo cos'è successo non sappiamo cos'è successo il terzo è un fatto grave importante però questo bombardamento di informazioni che avvengono in tutti i modi televisione, radio, internet porta ad una assofazione dei fatti e come diceva Paolo Bottega a un mescolare di notizie quindi a non fare bene se uno non è ben strutturato sul piano culturale a non fare bene a non cadenzare e a non catalogare bene la gravità delle cose e quindi mescoliamo passiamo da una notizia così grave poi giriamo pagina e ci esce il grande fratello ci esce amici eccetera e poi torniamo di nuovo al poliziotto che al coltella in Francia i colleghi e allora intanto è ovvio è sotto gli occhi di tutti che negli ultimi vent'anni in Europa nel mondo occidentale c'è stato e c'è un forte abbassamento sul piano morale etico che investe tutto il mondo occidentale non è solo un problema italiano è un problema culturale che riguarda il mondo occidentale ecco perché le culture islamiche si imporranno sempre più in Europa perché noi non siamo attrezzati sul piano culturale non siamo più colti siamo informati ma la cultura è un'altra cosa noi sul piano comportamentale proprio per questo deficit culturale che abbiamo noi contemporanei noi che parliamo noi con il microfono in mano non siamo persone colte perché il fatto il dato di avere internet internet vuol dire informazione che dovreste avere la capacità di pulire per vedere che il 70% è falso il 30% è vero o è adulcorato e ci manca la cultura perché la cultura non è più un valore quando io ero ragazzo io passavo il maestro il professore noi lo salutavamo con un inchino non era un atto di piageria era il dato era il fatto che vedevamo quella persona in un uomo di cultura un uomo di valore e noi dicevamo chissà da grande potesse arrivare al 50% della preparazione lo vedevamo come un dio perché alla nostra età la cultura era un valore oggi si conta in base a ciò che si ha non in base a ciò che si è e quindi questo abbassamento della morale e dell'etica porta ad essere intanto scostumati non si usa più questo termine lo so ma scostumati mi piace questo termine non farò scostumato quando andavo a scuola io e la mamma prima di uscire di casa mi raccomandava stava attento mi controllava i compiti oggi i ragazzi torno a casa si chiudono la stanzetta e sono figli di internet allora noi eravamo figli della casa la mamma ci faceva la tac quando ancora la tac non esisteva ogni 10 minuti per vedere dove eravamo e se uscivamo c'erano i vicini che ci controllavano oggi i figli sono i figli della rete che sono violenti ignoranti volgari e ti portano questo abbassamento della morale etica ti portano anche a questa violenza gratuita a quest'essere violenti noi li chiamiamo bulli in realtà sono dei delinquenti in miniatura non sono bulli è una parola dolce rispetto a quella che è la realtà davanti alla scuola dentro le scuole dentro le palestre eccetera e allora noi dobbiamo cercare di noi possiamo fare qualcosa la politica può fare qualcosa ad esempio la politica che controlla le televisioni di stato e a seconda di chi è il governo ti cambia il direttore e quindi poi a cascata ti cambia tutta l'architettura della RAI o della televisione può fare qualcosa e come può fare qualcosa ad esempio quando si fa una fiction e ti fa vedere Rina con la bagarella mano nella mano e ti fa vedere questa visione romanzata di Rina cioè di uno che mentre faceva uccidere e sgozzare quello che doveva essere ucciso lui rideva e obbligava tutti gli altri a mangiare questa non è informazione questa è spettacolizzazione noi con il professor capito cosa mi riferisco si sente perché io parlo bene il calabrese e così così l'italiano non sono inglese e allora quando voi vedete una serie una serie televisiva su una mafia italiana l'anno prossimo questa serie televisiva deve essere ancora più violenta perché già ci siamo a sue fatte a quella dell'anno prima e ogni anno è sempre un crescendo perché altrimenti la gente non vede e quindi non vende e quindi non si vende quando poi io vedo e io ho criticato queste fiction e mi è stato detto che io e ogni caso vogliamo censurare siamo contro la libertà siamo contro l'arte cinematografica ma ci mancherebbe altro io contro l'arte io contro la libertà ma io quando vedo un ragazzino di dieci anni davanti alla scuola media che si veste e si tagli i capelli come savastano e si veste come savastano io mi devo preoccupare io che ho scritto quell'opera io mi devo preoccupare di questo se io voglio essere voglio partecipare voglio partecipare alla educazione alla formazione delle nuove generazioni io devo stare attento a quello che dico perché quello che dico devo vedere quale impatto ci sarà sui ragazzi perché parlare oggi qui davanti ad adulti è quasi tempo perso perché chi era onesto uscirà da quella porta onesto chi era disonesto uscirà disonesto va bene ma se io vado a parlare a dei ragazzi vado a parlare in un liceo in una scuola media come faccio sempre di pomeriggio perché nelle scuole chi ha l'opportunità nelle scuole andate sempre di pomeriggio mai di mattina perché di mattina i ragazzi devono imparare l'italiano la storia di geografia e la matematica perché stiamo trasformando le scuole in progettifici e quindi i ragazzi non sanno scrivere e leggere in lingua italiana e allora io mi devo preoccupare di questi ragazzi qual è l'effetto di quella opera d'arte di quell'opera d'arte che viene proiettata io mi devo preoccupare del Savastano davanti alla scuola media e quindi io non voglio censurare niente e nessuno ci manca io sono massimo per il massimo della libertà e della democrazia però siccome noi abbiamo responsabilità siamo adulti dobbiamo contribuire e sognare sperare in un giro di boa non possiamo dire non possiamo stare zitti perché c'è un uomo di cultura o gente che si autodefinisce di cultura e quindi dobbiamo avere il timore reverenziale o la paura di poter criticare o contestare dobbiamo con tutte le nostre forze nel momento in cui c'è un qualcosa che viene proiettato o qualcosa che viene tra virgolette somministrato ai ragazzi e c'è un bambino davanti alla scuola che si atteggia a Savastano dove abbiamo l'obbligo il dovere civico di intervenire perché quelle cose non si verificano che non accadono perché altrimenti poi arriviamo alla sua fazione della violenza e a non capire qual è il bene e qual è il male Antonio in qualche modo è chiamato in causa te lo sai no perché vabbè a parte la citazione di Gomorra per quei tre che non avessero visto le fiction Savastano Savastano è Gomorra la fiction è quella ovviamente non è Gomorra la serie ma non è niente ovviamente niente contro nessuno è un metodo l'inganno della mafia è il libro che avete scritto è un libro in cui avete spiegato molto bene la differenza tra raccontare storie e raccontarle trasformando il criminale in eroe questo poi era il tema tu scrivi fiction e ci sono alcune fiction che scrivi che sono veramente molto forti molto importanti che sono molto vendute molto viste e la fiction oggi è diventata un po' la nuova letteratura è diventato il modo in cui tu come abbiamo detto prima entri nella pancia dei ragazzi perché non leggono più tanto ma la fiction è quella che da breaking in bed in poi fa la storia della nuova cultura o subcultura chiamiamola come vogliamo per chiudere questa bellissima serata ci spieghi in che modo intanto se voi avete una fiction in programma voi due perché tu ce li hai lo sappiamo parlaci delle tue ma dici anche se c'è qualcosa in programma e poi in che modo dovremmo rappresentare anche nella fiction quella lotta al silenzio di cui parlavamo all'inizio allora io intanto partirei da qualche numero dal 1948 al 2018 sono stati prodotti 337 film di cui 179 su Cosa Nostra 119 sulla Camorra 20 sull'Andrangheta e 6 sulla Sacra Corona Unita l'88% dei film prodotti riguarda Cosa Nostra e Camorra solo il 4 l'Andrangheta che quindi è stata sotto rappresentata però c'è anche un aspetto se andiamo ad analizzare i film che sono stati prodotti sull'Andrangheta notiamo che si limitano all'introspezione psicologica dei membri del clan delle sue regole arcaiche cioè un po' di folk una capra sgozzata un santo sono a mio avviso la ricetta migliore per non parlare mai del livello oscuro e di potere dell'Andrangheta quello che la rende ormai parte parte dello Stato io invece apprezzo molto quei film come Tano da morire di Roberta Torre quei film che in un certo senso tendono a demitizzare i mafiosi magari anche con l'arma dell'ironia come per esempio è successo con l'avventura di Odisseo nella grotta del ciclope che è stata parodiata da Euripide nel dramma satiresco il ciclope o con tanti altri come esempi che possono essere ripresi dal passato e io penso che quando si si va a scrivere una 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 sceneggiatura si deve pensare anche al messaggio di fondo e cercare di non creare il conflitto tra il male e il peggio ma cercare anche di far capire che in un determinato territorio non ci sono soltanto i mafiosi i camorristi gli indranghettisti ma anche tanta gente onesta che lavora e che produce e che non ha più voglia di convivere con le mafie ecco e poi un altro aspetto e lo diceva bene Nicola Gratteri è appunto quello di non dare troppa importanza a questi boss che spesso sembrano personaggi tratti dalle opere di Shakespeare se noi andiamo a vederli nella vita di tutti i giorni scopriamo essere personaggi di una bassezza incredibile però quando vengono rappresentati diventano uomini e personaggi molto eratici molto seriosi e quindi in un certo senso contribuiamo anche noi a creare quell'idea dell'ineluttabilità della mafia del fatto che la mafia non si possa mai sconfiggere non si possa vincere per tanto tempo abbiamo prodotto sceneggiati in cui chi lottava la mafia era un cavaliere solitario che è la fila doveva per forza morire ecco io direi che c'è bisogno di andare oltre e di raccontare anche chi la mafia la combatte tu mi chiedevi cosa stiamo facendo da Acqua Santissima sta per realizzare una serie televisiva e ho appena ricevuto il pilot scritto da un grande sceneggiatore americano che ha lavorato a serie televisive come Homeland The Wire sta avvenendo bene sta avvenendo bene anche nell'ottica della demitizzazione dei boss che è un po' quello che noi stiamo cercando di fare con i nostri libri e con il nostro tempo libero quando abbiamo la possibilità di incontrare gli studenti come diceva Nicola il pomeriggio lo facciamo con piacere e lo facciamo perché crediamo in quella che è la lotta culturale al fenomeno al fenomeno criminale noi diciamo sempre che le mafie non si sconfiggono solo con le manette e le sentenze c'è bisogno anche di creare spiriti e uomini liberi capaci di scegliere scegliere da che parte stare Giulio la cultura come base per sconfiggere le mafie e quindi viene a palla la domanda di chiusura che è la domanda di inizio ed è la ragione per la quale siamo qua noi abbiamo aperto dicendo il sud non ha un futuro perché siamo convinti che il sud ne abbia più di uno abbia tanti futuri cosa ne pensi dei futuri se ci sono del nostro sud e qual è il futuro quali sono i futuri che tu vedi allora intanto volevo riprendere alcune parole che aveva detto il dottore Gratteri e che sono molto importanti credibilità che vale per i magistrati vale per i giornalisti e vale per chiunque ha una funzione importante da svolgere aggiungerei anche la parola responsabilità condivido anche quella cosa che diceva il dottore Gratteri il giornalista deve essere feroce ma è proprio questa la caratteristica del mestiere essere molesto fare le domande scomode ed è per questo che molti giornalisti sono invisi al potere perché fare le domande dà fastidio fare le domande si preferisce appunto come dire lavorare senza che nessuno ti venga a porre domande ti venga a disturbare dopodiché scattano le contromisure scattano le querele temerarie scattano tante tante contromisure per cercare di fermare i giornalisti poi i futuri io ci ragionavo fin dal giorno della presentazione guardare al futuro e quindi al futuro del sud il tema ma anche al futuro del giornalismo io devo dire che è difficile oggi come oggi capire che cosa ci riserva il futuro l'altra volta il presidente della fondazione Magna Grecia dottore Foti diceva dobbiamo trovare le strade alternative dobbiamo pensare come sarà qui il sud da qui a 20 anni e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata fra 20 anni esisteranno ancora i giornali di carta per esempio ed è una cosa che ci chiediamo tutti con angoscia perché la crisi è veramente devastante per quanto riguarda il mondo dell'informazione i giornali che chiudono la precarizzazione del lavoro che rende più debole il giornalismo i giornalisti allontanati dai giornali che poi si rivolgono molti a collaboratori esterni pagati quattro soldi insomma c'è una situazione veramente difficile il giornale Sicilia che chiude l'edizione orientale è veramente una pagina triste necessaria probabilmente per ragioni economiche però non avere più un giornale una voce importante come quella del giornale Sicilia in un territorio come quello di Ragusa Siracusa Catania Messina è certamente un impoverimento viene meno una voce importante viene meno un terreno di confronto un terreno di denunzie anche e quindi oggi noi scontiamo un ritardo non avere capito per tempo che cosa era internet e come stava cambiando l'informazione e man mano che si va avanti con il digitale con le nuove tecnologie noi stiamo continuiamo a rimanere un passo indietro non riusciamo a capire quale futuro trovare quale dimensione trovare personalmente sono convinto che i giornali di carta non moriranno ma devono trovare una loro identità una loro dimensione una loro credibilità perché è vero si è parlato poco fa del fiume del mare magnum dell'informazione su internet tante informazioni che poi alla fine non informa alle fake news che circolano liberamente e allora la funzione del giornale probabilmente è quella di ritrovare credibilità puntando sulla verifica rigorosa delle notizie dell'accertamento quindi delle notizie e poi sul coraggio sulla fantasia perché io non sono convinto che le persone non leggono più probabilmente vorrebbero un prodotto diverso da leggere perché c'è una grande richiesta di informazione oggi se è vero che il giornalismo d'inchiesta sta scomparendo è anche vero che però che quei pochi programmi che fanno giornalismo di inchiesta di report per esempio tanto per citare uno ottengono ottengono grande attenzione dalla parte del pubblico quindi ripensare il giornalismo ripensare il mondo dell'informazione disegnare un futuro che ancora stentiamo a decifrare e immaginare e però il futuro che sogno io è quello di un giornalismo in cui i giovani tornano a essere protagonisti non da sfruttati non da precari ma da protagonisti portando come dire un linguaggio nuovo una creatività nuova una nuova capacità di comunicare con gli altri noi abbiamo bisogno di giornali e dico giornali in senso ampio parlo anche delle testate online parlo di un'informazione che arrivi alla gente perché che svolga il suo compito di informare correttamente la gente renda la consapevole in nome del diritto di essere correttamente informati e quando si attacca un giornalista perché il problema non è soltanto la mafia o non sono soltanto le querele temerarie per le quali finalmente il Parlamento dovrebbe decidersi avvarare una legge che metta come disincentivi in qualche modo queste querele temerarie tanto chi le fa oggi non rischia nulla male che vada ci abbiamo provato e basta ma occorrerebbe a mio avviso come dire nei casi in cui ci sono delle aggressioni a un giornalista mettere anche un aggravante che faccia capire che il giornalista non è una una persona comuna è una persona che esercita una funzione pubblica e quando si colpisce un giornalista si colpisce anche il proprio diritto di essere correttamente informato infatti la mia amarezza è vedere come davanti anche a episodi gravi di minacce serie di autobruciate nei confronti dei giornalisti non non ci sia la città a ribellarsi a fare sentire il proprio sostegno al giornalista si guarda il tutto con distacco poi c'è un altro argomento che volevo prendere ma questo ci porterebbe lontano è il linguaggio anche su facebook noi abbiamo siamo giornalisti e lo dico sempre ai miei colleghi e abbiamo dobbiamo tenere presente che abbiamo una responsabilità sempre non esiste un mondo a parte come quello di facebook dove ognuno può scrivere quello tanto uno spazio privato e uno può scrivere quello che vuole se è un giornalista deve essere giornalista anche quando scrive su facebook ed essere consapevole delle responsabilità delle cose che dice quindi è dura abbiamo tanti errori da farci perdonare ma è con il rigore con il rispetto alle regole deontologiche e con con la serietà che dobbiamo mettere nel nostro lavoro che possiamo pensare di recuperare terreno ritrovare una credibilità perduta e quindi costruire un futuro possibile dove ci sia spazio per i giovani che credono in questo mestiere e possono dare tantissimo Carlo stessa domanda stessa brevità di risposta in modo che facciamo quest'ultimo giro e poi lasciamo Liberi che è stato pesante come giornata importante piena di argomenti intanto un applauso e un ringraziamento alla fondazione sud dell'onorevole Nino Foti Fondazione Magna Grecia non mi cadere sul nome Sud e Futuri è il titolo Fondazione Magna Grecia per questo evento che non è una passerella noi nel sud siamo abituati a tante passerelle ma un vero e proprio laboratorio di idee e di speranza un dato è significativo che ci deve fare molto riflettere negli ultimi quattro anni sono stati censiti circa 4 milioni e 200 mila italiani residenti all'estero e negli ultimi due anni la percentuale in diciamo in aumento esponenziale il 35% è relativa ai giovani laureati e questo è un dato che ci deve far riflettere perché noi le migliori intelligenze scappano dall'Italia vanno via dall'Italia in un paese nel quale diceva bene Gratteri abbiamo un grosso problema che è il livellamento culturale verso il basso perché questo è un grosso problema è l'abbandono dell'istruzione c'è il calo dell'escrizione all'università che tra l'altro rappresenta anche un indice al quale non corrisponde un aumento dell'occupazione quindi è un dato che ci dà la rappresentazione dell'aumento dei disoccupati che non studiano e non lavorano quindi una situazione drammatica in un paese e tanti ne abbiamo visti sia io che Gratteri perché essendo stati costretti a prendere l'aereo da Reggio a Roma abbiamo visto invece che nel corso di tanti anni i figli dei mafiosi invece andavano a studiare nei collegi in Svizzera e si andavano a laureare a Oxford perché loro diversamente dall'eficion hanno pensato invece a creare all'interno i cervelli a crearseli a crearseli a crearseli in casa lo sforzo che dobbiamo fare è uno sforzo normale cioè noi dobbiamo semplicemente credere che sia normale cioè dobbiamo aspirare alla normalità abbiamo come dire la grande fortuna di avere uomini come Giulio Francese io lo dico lo ringrazio molto perché non mi stanco di ricordare mai la storia di Giulio Francese e lo dico qua a Palermo perché la storia di Mario Francese del padre di Giulio è una brutta pagina per il giornalismo italiano perché all'epoca io voglio ricordare il comitato di redazione cioè i colleghi non hanno espresso un solo comunicato un solo rigo di solidarietà davanti a un episodio a un episodio simile ha parlato Giulio della chiusura delle redazioni del giornale di Sicilia una vertenza orientale è una questione che conosco bene perché io l'ho seguita per circa due anni in rappresentanza della federazione nazionale della stampa e ho detto all'editore del giornale di Sicilia che è lo stesso editore della Gazzetta del Sud che non è una bella cosa vantarsi di essere l'unico giornale italiano che negli ultimi otto anni ha acquistato una rotativa 3 milioni e mezzo di euro quando contestualmente oltre a chiudere le redazioni ha licenziato 15 giornalisti nei momenti di grande difficoltà e soprattutto per chi crede nel valore dell'informazione è l'investimento cioè bisogna investire e chi fa impresa sa benissimo che proprio nei momenti di difficoltà bisogna investire i dati diciamo degli indici di ascolto sono stati resti noti proprio la scorsa settimana da Audi Press danno praticamente ci dicono che in Italia il 75% dell'informazione c'è una platea di circa 40 milioni di italiani consuma informazione allora il problema non è che la gente non si vuole e non continua ad informarsi il problema è che noi abbiamo editori vecchi che rimangono ancorati a vecchi modelli e che pensano che i profitti si fanno tagliando la forza lavoro tagliando l'informazione la qualità dell'informazione può derivare e arriva solo dalla qualità dei giornalisti ma i giornalisti vanno pagati come tutte le professioni bisogna fare un investimento sulle intelligenze perché i giornali non si vendono più a chili abbiamo l'esempio degli Stati Uniti dove un tempo i giornali pesavano 4-5 chili il New York Times oggi si va sul valore sulle inchieste noi abbiamo un esempio lampante è stato fatto un film di successo l'anno scorso la storia del Boston Globe un giornale cartaceo decotto che ha investito su una squadra di giornalisti di inchiesta e praticamente ha fatto utili e continua a fare utili sul cartaceo quindi lo sforzo la sfida deve essere quello di dare un'informazione seria e credibile e non commettere l'errore che i quotidiani hanno commesso negli anni scorsi inseguendo la televisione inseguendo internet internet è come dire una grande risorsa ma è un grande limite perché internet sempre più si concentra nelle mani di pochi gruppi e quindi rischiamo veramente di subire la dittatura dell'algoritmo quindi la massificazione del pensiero in maniera seria è pesante gli imprenditori che vogliono seriamente continuare perché credono all'informazione devono investire soprattutto a livello locale proprio qualche settimana fa persino il Papa Papa Francesco ha sottolineato il valore dell'informazione locale e l'informazione locale come diceva benissimo all'inizio Gratteri il cittadino si preoccupa più della microcriminalità del valore del benessere delle piccole cose perché dalle piccole cose che si costruiscono le grandi cose e le grandi cose se noi le vogliamo continuare a difendere perché crediamo nei valori della Costituzione del nostro Paese non ci possono essere se e ma ma la via deve essere quella della giustizia e della legalità e di dare più ascolto a quello che il procuratore Nicola Gratteri che ripeto ci dice da 30 anni ma che in 30 anni forse tante cose avremmo potuto cambiare se magari il procuratore avesse avuto risorse risorse maggiori per assicurare alla giustizia chi invece non è stato fatto animismo spezziamo una lancia comunque prego prego stavo stoppandoti di brutto l'applauso non si fa spezziamo una lancia a favore di internet perché grazie a internet possiamo vedere per l'ultima volta salutare Antonio Nicaso perché poi con Nicaso ne abbiamo parlato un sacco di volte McLuhan in mezzo del messaggio ma ovviamente la chiudiamo qui tu sei velocissimo Antonio ti salutiamo sulla tua risposta e da da quella parte dell'oceano è più facile guardare verso di noi e darci una risposta c'è un futuro per il mezzogiorno ce ne sono tanti o non ce ne sono proprio c'è futuro e a me piace ricordare in questa sede la definizione che spesso usa Vito Teti un grande etnologo che parla di restanza e quindi la voglia di restare e di resistere io vedo che grazie a magistrati come Nicolai Gratteri che danno speranza oggi tante persone che vivono all'estero e che sono stati costretti a lasciare la loro terra sognano di tornare e quindi questo è positivo anch'io sto pensando di tornare perché ho voglia di combattere ho voglia di contribuire a creare una società migliore e quindi un futuro per il Sud che è sempre stato penalizzato distrattato ma chi ha le risorse per risorgere per resistere per guardare con ottimismo al futuro e noi qui ti aspettiamo Antonio sai quanto e sai con quali braccia aperte è tua è tua la domanda è tua la risposta il Sud non ha futuro ce l'ha ne ha tanti qual è il tuo futuro e il futuro che immagini per il Sud ma intanto io dico che ci vuole io sono un filo ottimista quantomeno per la mia terra io sento che la Calabria sta cambiando sta cambiando in meglio io sento che si sta già creando il giro di Boa sento una nuova primavera per la Calabria perché vedo tanta gente attenta impegnata presente io sto cercando di sto esortando i cittadini e dico io non voglio che voi rischiate non voglio nessun Don Quixote non voglio kamikaze ma dico una volta che io vi pulisco un paese arrestiamo 80-100 persone in un territorio un minuto dopo voi dovete occupare quelle strade dovete occupare quelle piazze impegnatevi nel sociale impegnatevi in politica impegnatevi fate volontariato ma fate qualcosa non state nei salotti a parlarvi addosso non state nei salotti a fare i censori di chi si impegna di chi cerca di fare qualcosa di cambiare la situazione io penso che in Calabria ci sarà ci sarà un futuro migliore non è difficile perché purtroppo noi siamo ultimi in tutte le gradatorie quindi tutte le classifiche europee siamo ultimi in tutto però fino a poco tempo fa c'era rassegnazione questa è l'unica cosa che è cambiata che non è una cosa da poco non c'è più rassegnazione c'è gente che vuole cambiare sta pensando sta elaborando già si sta muovendo quindi io penso che è possibile un futuro migliore ripeto una cosa che ho sentito al volo appena sono arrivato c'era uno dei relatori precedenti dice non facciamo vittimismo non pensiamo a non facciamo impegnone non ci possiamo lamentare perché non ci sono più alibi per nessuno possiamo anche ripercorrere la storia dell'unità d'italia possiamo anche ripercorrere la storiella che hanno chiuso le industrie a sud per aprire i cegli di Brescia dopo che hanno chiuso quelle di Moni tutto quello che volete d'accordo però siamo nel 2019 mettiamo che nell'unità d'italia nel 1861 ci hanno rubato tutto e tutto l'oro del sud l'hanno portato a Torino va bene mettiamo il caso sia vero al 100% questa storia ma dopo più oltre un secolo e mezzo che è successo noi continuiamo a ripetere questa storia noi cosa stiamo facendo la Sicilia è una regione a stato speciale come era il Trentino qualcuno dei relatori precedenti ha parlato di Sicilia e Trentino dicendo che la differenza però lì c'era il sul ma non scherziamo stiamo parlando di un partito dello 0,5 che diciamo che la differenza che in Trentino sono fatte le cose perché lì c'era il sud e qui in Sicilia cosa c'era? qui in Sicilia c'era ci sono tutti quelli che possono che potevano e possono fare perché oggi non è possibile fare in Sicilia una regione a stato speciale arrivano milioni e milioni di euro per poter realizzare per poter fare piuttosto incominciamo ad essere responsabili e essere coerenti non perdiamo tempo a fare il mio colpo incominciamo a fare incominciamo a chiudere enti inutili incominciamo a pensare di fare una ferrovia nuova che possa riguardare tutto il perimetro della Sicilia ad esempio non dico una piscina ogni 500 abitanti come i 130 in alto ma almeno una ferrovia che possa fare il perimetro possa fare il perimetro della Sicilia perché la Sicilia io mi sono laureato a Catania negli anni 70 una città bellissima non bella bellissima io sono grato a quella città perché mi ha formato ho avuto grandi stimoli perché era una grande università c'era gente intelligente preparata professore dei guru del diritto quindi sono grato amo la Sicilia la conosco benissimo ho girato e ogni tanto quando torno a Catania torno triste c'è un velo di malencoria non solo perché sono vecchio ma perché la vedo grigia brutta non era bella non è bella come era negli anni 70 e allora di chi è la colpa perché è successo questo perché c'è stato questo questo abbrutimento perché non è bella colorata come lo era negli anni 70 cosa è cambiato cosa è successo in Sicilia perché non è possibile come per la come in Calabria fare una ferrovia che 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 possa fare il perimetro della Sicilia si parlavamo prima con l'onrevole mentre eravamo lì dice vent'anni fa sono state fatte delle cose è stato risolto il problema dell'acqua e ma poi dopo il problema poi ci siamo fermati perché non si ricomincia di nuovo a fare a pensare in grande a fare un grande progetto per la Sicilia perché continuiamo a trascinarci perché non vi alzate e dite ma la finiamo di chiudere perché non chiudiamo queste enti inutili assistenziali incominciamo a risparmiare incominciamo ad essere seri non ci chiamiamo onorevoli se siamo consiglieri regionali non ci chiamiamo senatori o ministri se siamo assessori regionali incominciamo ad essere ad avvicinarci di più ad essere meno pompose ad essere meno scendiamo dal piedistallo incominciamo a misurarsi incominciamo a fare una rivoluzione incominciamo a cambiare le cose io direi che la possiamo chiudere qui ringraziamo Carlo Parisi ringraziamo Giulio Francese ringraziamo Antonio dall'altra parte dell'oceano e ringraziamo soprattutto Nicola Gratteri a voi buonasera ci rivediamo alle 9.30 di domani per il tavolo internazionale grazie a tutti 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 grazie a tutti